Continua la battaglia degli abitanti di via Matteotti contro l'antenna che Vodafone ha installato a fianco della sottostazione elettrica. Dopo che i membri del Comitato dei residenti della zona hanno presentato le loro osservazioni e preoccupazioni durante un Consiglio Comunale aperto e dedicato a questo tema, l'assessore con delega all'ambiente Giovanni Giannerini ha espresso l'intenzione dell'amministrazione comunale di spostare immediatamente l'apparato. L'11 giugno c'è stato questo incontro con l'assessore nominato da poco all'ambiente Giannerini che ci ha promesso o perlomeno ci ha garantito che l'amministrazione comunale è intenzionata a togliere l'antenna da quel sito lì perché è sensibile, a iniziare un tavolo di confronto per la revisione del piano e del regolamento per la telefonia mobile. Le preoccupazioni del Comitato non sono legate soltanto ai campi elettromagnetici. Due famiglie che abitano nell'edificio di fronte all'antenna stanno decidendo di trasferirsi, anche a causa dei forti rumori causati dalle lamiere dell'antenna quando tira vento. All'indomani che è stata installata la famiglia comincia ad avvertire in casa tutta una serie di rumori. E questi rumori poi aumentano in giornate di vento perché così come è l'antenna crea un rumore fastidioso e non si riesce a riposare. Il Comitato chiede adesso all'amministrazione comunale di passare dalle parole ai fatti e chiede inoltre in attesa dello smantellamento dell'antenna il suo spegnimento. Dato che le schede tecniche fornite dall'azienda al Comune per i permessi risultano irreperibili e non c'è una certezza riguardo le effettive emissioni e il cono di irradiamento delle stesse.